L'associazione Napoleone d'Elisa da Parigi alla Toscana ha promosso l'apertura straordinaria delle sale della provincia di Lucca che furono il teatro di Elisa, per visitare la mostra Il Naso e la Storia, il percorso ideato da Simonetta Giurlani-Pardini per raccontare le vite e le vicende storiche di Elisa Bonaparte e Maria Luisa Borbone. Domenica 21 ottobre in occasione del mercato dell'antiquariato di Lucca e di Lucca Comics & Games torna l'occasione di entrare in contatto con le atmosfere olfattive dei personaggi storici creando un ponte fra passato e presente. Per il 2018 le aperture in occasione del mercatino dell'antiquariato sono previste anche domenica 18 novembre e il 16 dicembre. Dislocato in quattro stanze del piano nobile di Palazzo Ducale, il percorso Il Naso e la Storia propone suggestioni olfattive, oggetti e descrizioni. Gli appassionati dei fumetti troveranno ad attenderli anche fumetti e giochi da tavolo di Napoleone. L'apertura del percorso è dalle 15 alle 17 con una visita guidata che inizia alle 16.